Tutti insieme, forza! La nostra vita, la nostra vita, la nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre infinità, i migliori anni dell'anno. La nostra vita, la nostra vita, la nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre. La nostra vita, la nostra vita, la nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre. La nostra vita, la nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre. La nostra vita, la nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre. La nostra vita, la nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre. La nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre. La nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre. La nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre. La nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre. La nostra vita, un ufficio di morte che suonano tre. Un ufficio di morte che suonano tre. Mi sembra un ufficio di morte che suonano tre. la ragione, un ufficio di morte che suonano tre. un ufficio di morte che suonano tre. la tua povera coscienza, un ufficio di morte che suonano tre. 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 E non lo sai, e non c'è pietà, per chi non prende si convincerà che non è solo una macchia sola, il cielo. E non lo sai, quante volte avrei preso il volo, ma le ali le approcciate già, la mia malità e la presenza di chi è andato già, provandomi la libertà e il cielo. Quanti amori conquistano il cielo, per l'edoro dell'immensità. Qualcuno cadrà, qualcuno invece il tempo vincerà, finché avrà abbastanza stelle, il cielo. Quanta violenza sotto questo cielo, un altro figlio nasce e non lo muochi. Dispermatozoio, l'unica forza è tutto ciò che hai. Ma dimmi, ma che uomo sei? Se non prendo il malattolo, li riunisci insieme a me e ricominciamo a dipingere questo mondo grigio, questo mondo così stanco. Dell'amore che vuoi, dell'amicizia che ricordi da sempre. Dipingiamolo di noi, di noi che non morri, di noi che non amanti. A noi che basta un sorriso e una schiena di mano, a noi che basta dirmi semplicemente. Vi amo! Fatima! La nostra Fatima! Fatima è il barone, è vero? Quanti anni hai? Cinque e mezzo! Signori, cinque e mezzo. E' più piccolo di me, pensate! E' più piccolo di me, pensate! E' più piccolo di me, pensate! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il maestro Rino Rossi. Alla batteria il maestro Matteo Esposito. Il nostro corpo di ballo è capitato da Rossana Ramino e Angelo Riccio. Con tutti gli annessi incontnessi nella scuola di Angelo. La nostra Samanta Carullo, voce conista. Ringraziamo la protezione civile, il teatro che ci ha ospitato, la nostra direttrice artistica, Lina Cocorullo Lopatti. Poi voglio ringraziare Giulio Carforo e Lia Mosca che hanno contribuito a questa magnifica festa. Con la loro presenza ci hanno dato ancora emozioni, emozioni, emozioni. Poi il nostro attore che ci ha deliziato del triludio, Francesco Lanza. Grande, veramente, veramente, bravissimi. Li ho voluti, li ho voluti per ultimi perché gli ultimi sono sempre i primi. Signori, Giulio Carpota, Carpota, Lia Mosca e Francesco Lanza. Poi li voglio più al centro, li voglio al centro, qua. Perché con la vostra presenza il nostro spettacolo è diventato super. Ma un applauso grandissimo. Fatima un barone, signori. Un applauso forte per tutti voi che, senza di voi, non c'è finestra, non si fa niente. Adesso abbiate qualche attimo ancora di pazienza perché il nostro carissimo Raffaele De Cesari si è addormentato ma durante lo spettacolo mi ha deliziato di un loro pensiero e perciò dicevo l'amicizia è superiore all'amore e non lo dovete far più perché io poi non posso andare avanti nel cantare. Crediamo che ormai sia abbastanza chiaro che ti vogliamo un mondo di bene. Un abbraccio a Alessio Carlo e Raffaele. Siete sempre stupati di noi. Io ti ringrazio particolarmente perché loro da tempo hanno creduto in noi e ci crederanno ancora, mi auguro, per tanto tempo. Come ci sono tante altre persone che ho avuto l'onore e il piacere di già aver visto in altre situazioni. Continua a stare con noi perché penso che cantare con il cuore sia la cosa migliore. Il nostro operatore Santo Sveglia che ci ha deliziato con le sue immagini che poi vedrete. La collaborazione di Alessio e Antonio Lombardi che hanno contribuito.